Ideato dal reparto di ginecologia dell'AOU di Sassari, un nuovo progetto per consentire alle neomamme di indicare la persona che l'aiuterà nelle prime cure del bebè. Realizzato in morbida plastica di colore azzurro con il numero identificativo del nascituro nel reparto di ostetricia del materno infantile. L'iniziativa Bracciale Mamma Bebè Partner è entrato nel vivo in questi giorni, con la consegna dei primi braccialetti. Il braccialetto, ma di colore bianco con lo stesso numero identificativo, sarà riportato anche dal polso del bebè e della sua mamma. Sarà dunque un lascia passare, garantendo la privacy, ma che consentirà a chi lo indossa di avere il libero accesso alla stanza di degenza e a cui potrà essere affidato il neonato. Il progetto è stato pensato in epoca non-Covid, spiega Annunziapinna, dirigente dell'area assistenza ostetrica, ma adesso, con le restrizioni agli accessi in ospedale, diventa indispensabile. Era necessario, infatti, rispettare il diritto al sostegno della donna nel giorno della nascita del figlio, dandole la possibilità di avere accanto una persona di fiducia. Con la pandemia, infatti, è cambiata la gestione degli ingressi dei visitatori nelle strutture ospedaliere. Per evitare i contagi, quindi, oltre alle future mamme, si sottopone a tampone anche chi accede al reparto. L'obiettivo principale del progetto è garantire una maggiore umanizzazione dell'evento nascita in piena sicurezza, attraverso la partecipazione del partner della neomamma alle cure del bambino, già dai primi giorni di vita.